i giorni dopo di Juventus o Carta sono così guarda mi sono alzato così già avvelito mi sono alzato guarda 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 mi sono alzato come il tempo della spezia che viene che ha una depressione guarda poi dici perché la gente viene a depressione qua per questo chiovi sempre 365 giorni una volta che c'è solo da pure fastidio è solo capito quindi non mai si è abituato a questo questo tempo la Juve è come il tempo di qua guarda e i Juventini sono pure così sono volto a bandiera hai visto con le pezziglia grande Juventus fenomenale cose da troppo 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 ha perso questo toccato molto 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 gli stessi che ieri ma a partita precedente molto grande molto meglio di Allegri poi vabbè Chiri poi ci sono giustamente come voleva si dimostrare lì a Allegri sono spuntati proprio come i topi la fogna hai visto ah se ci fosse stato il mio allenatore se ci fosse stato Allegri tu non la perdevi questa partita e qual è il problema ti stavi tutti in difesa loro attaccavano noi reggevamo un contropiede la portavi a casa per questo mi manca il mio allenatore ma si può fare queste discussioni ma io posso fare queste discussioni con questi Juventini capito? a costruire i tifosi Juventini è diventato come 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 qualsiasi tifoso capito? di solito ci diciamo sempre napoletani interisti pianisti si la critica ci sta ma deve centrare la critica in questi anni in questi anni hai criticato a Pillo a Ballegri vabbè chi l'ho mai? hai criticato a Pillo, a Pillo, a Pillo, a Sarri, a Auto Pillo, Allegri, Allegri e Bisto ne parliamo e ora Motta Out ancora siamo arrivati dunque ottava giornata di campionato e terza dicempo Motta Out! comunque tutte le tifoserie uguali sbaglia in sacchi, in sacchi Out! sbaglia Fonseca, Fonseca Out! sbaglia però prima per una Conte, Conte non mi stai piacendo sei rubendino, Conte Out! tutti così sono e vedrete tra pochi giorni, tra pochi anni pure ci saranno in sacchiato ma già ci sono state ora carro sul carro scendi, non scendi, manda d'affanculo guarda ma comunque ragazzi Motta Out e Allegri Allegri non si può sentire non si può sentire mi manca il mio allenatore se ci fosse stato il mio allenatore il tuo allenatore è, come HBA fai per i suoi due aziende, beh, veramente, beh, complimenti se fossi stato il tuo allenatore e chi si pensa ancora all'Allegri di otto anni fa, capito? quando c'era Manzo, Cicguain, Di Bala, la BBC, che tira, Ronald ma chi era la squadra di campione era? Lickstein, Asamoah, Pillo, Vidal, il nuovo Pocco Bocco del Reggio questi erano campioni, qualità, capito? manca la qualità giustamente diceva Ben Bala, allora che facciamo qua, la qualità, quando cazzo ti hanno speso 200 milioni di euro spendi, 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 spendi e perdi, 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 per ora hai perso una partita quindi prima sconvita stagionale, già subito, e poi c'è tutto a me, il mio canale, non su YouTube, su Facebook a maggior parte, un vale sei campiato, stai criticando, non lo sa ne più la Juventus, no, non hai capito guarda io lo sanno sempre la Juventus, infatti non ho detto mai, ancora nella mia bocca non c'è molto out capito? perché io do fiducia all'allenatore, l'allenatore è arrivato praticamente avantiere e già lo stanno criticando, molto out, non va bene molto tu la criticare, né giù, si critica, né giù, bisogna avere almeno un certo equilibrio equilibrio, capito? mica, ho capito, magari uno non è, non si può mancare troppo esaltare ma mancano troppo disfattisti, capito? ecco, vedo la differenza e questo però è un modo di approcciare anche sul web, la web, basta che hai critico basta che butti in merda guarda, ci fanno due parti di buttare in merda, fate camminare a Juventus picchiai 70 iscritti in più, capito com'è? perché diciamo, ma quello è sportivo no, ma non è così ragazzi, siete tutti combinati male alcuni aspettano proprio subito, oh, avanti a moto, è arrivato a moto ora lo criticano a moto, che cazzo a criticare a moto? che cazzo a critica? ma la, o meglio, la critica non è giusto non che è molto alto, già c'è una certa cosa, potete capire comunque, il giorno dopo distoccare da Juventus piove, piove, senti come piove, mamma come piove, mamma siamo disperati mamma che schifo di Juve comunque è stata la prima partita, forse, nell'ambito, molta mania che in effetti abbiamo fatto schifo schifo, schifo, mi sono riparato perché, a parte che stamattina mi sono alzato con anche cazzo di qua, di un vino toscano, ecco perché era un euro di toscano rosso, come stoccarda, capiamo? abbiamo stoccato, stoccato con i stoccarda, vedi? abbiamo stoccato purtroppo capito? ho steccato, si è steccato, come schifo si chiama, capito? stoccafisso, stoccafisso, ora stasera mangio stoccafisso, ora sei sto cofisso, va va, va a vedere, stoccafisso, buono, capito? ad ass honesty buono lo stoccafisso, mi piace, infatti, ma mi sembra stoccafisso, mi rush, mi viene cosa, mi accena sole mi scende guarda, ha gacchietto, guarda, mi vicINA ha gacchietto di Crona che a molto, si è vero, però usci cosa ho pensato, ieri alla fine, ripeto, a parte questo poi hanno dominato, ci hanno proprio tartassato, è come ieri non siamo scesi in campo, avrete questo, ieri non siamo scesi in campo, poi la scusante, anche la mia scusante, la scusante, purtroppo che ragazze ho fatto che ne manca breve, perché tu come breve prendevi, non lo prendevi, a parte non se lo metteva, perché tante gente dice, ma come mai, fa mettere sbagliato, perché non è messo a Gatti, perché non è messo a Cambiasso, perché poi tutto Contesau, perché tutto Flauric, perché, 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 secondo te perché avanti, a parte 60 partite non li possono fare tutti quanti, perché, perché Motta ieri, anche se ha sbagliato, ma ieri ha fatto capire che ci interessa la partita con l'Inter, ma poi ha per lo stesso, lo so mi dice, vai in bario, qualche amico privatamente, mi ha detto, vabbè a questo punto metta la primavera, a questo punto si, allora a questo punto, se non ti interessa metta la primavera, ma pure io lo dico, ma primavera non lo può ammettere, infatti mi sono pure a Perino, un po' potere di Gregorio, perché si vede che quella partita la vuole, poter, testare molto quella partita, magari quello, intanto la priorità è un campionato, attenzione, non è che va a vincere la Champions 9, apre e chiusa la Parenza, non siamo una a vincere la Champions, sicuramente, almeno di andare, almeno questa Juve mi aspetta almeno di andare alle ottave, capito, poi, se ne esce i quarti, esce i quarti, è vero, a Juventus che ha speso 200 milioni, veramente, a me nei quarti ci deve andare, capito, perché se vai, se vai alle ottave ed esci con Motta sub da prima, insomma, non mi pare che, ai quarti già ci può stare, perché qua ci sono poi le squadre galattiche, quindi, questo innanzitutto, quindi, non siamo una a vincere la Champions, capito, anzi, se vincere la Champions, io ho chiesto l'Inter, visto che è palo, non ho mai campionato, hai vinto, fa vincere, mi va, fa vincere con Young Good Boys, vincere con Young Good Boys, però, io voglio, ora, come hanno criticato molto, ora, se pensiamo stasera, l'Inter perde con Young Good Boys, ma non perderà, mettiamo caso che, manca, manca la Taro, perché la Taro manca? Perché giustamente, la Taro, c'è la partita, perché ora, la, non sai che, sicuramente, qualche, qualche giocatore non lo tiene per il big match di Juventus, di Inter Juventus, com'è, è così, ragazzi, ieri, non siamo, la scusante è questa, in uno non siamo scesi in campo, però, la, una scusante è buona, è giusto, perché rimangono pure i titolari, c'è, con il tuo titolare, perché il Coppomegas è il titolare, ma cosa ha fatto il Coppomegas, ma intanto c'è il Coppomegas, guarda, il Bremer, il Bremer, ragazzi, forse avete capito, no? A livello di peso, il Bremer è come la Taro dell'Ind, è come il, cazzo si chiama la, il Pulisic del Milan, è come se, come se, come se che, il Caramella, Carasveglia del Napoli, capito? È come, per noi, il Bremer è come il Salà del Live, è come Vinicius del Real Madrid, ma avete capito già che manca uno di quello, la stagione è finita, è un casino, è un casino, è un casino, e infatti adesso senza il Bremer ci stanno cambiassero, che poi pure, non so, Calulo, centrali, la Chiro tira il gol, Chiro Perini era apparato veramente, come ho detto ieri, anche le mie morroide, guarda, Perini, proprio santo subappavata, mi dispiace, ripeto, ieri, alla fine mi dispiace solo per Perini, guarda, solo per lui, guarda, poi per gli altri si la fanno mettere in, si la fanno sghettare in culo a loro, guarda, perché è così, ragazzi, perché poi alla fine, ho capito, non si può fare questa prestazione, che dobbiamo fare? Andiamo a ammazzare come? Eh, ma è così, ecco che significa essere Juventino, però, non bisogna manco essere chi paraocchi, sicuramente, come si dice, portate la pagina, andate, come ci conta, mi affaticate qua, pure qua mi affaticate con Juventus, molta, devi affaticare, purtroppo è fatto una prestazione vergognosa, non me l'aspettavo, onestamente, però è anche vero che, ora, una partita, ma ora voglio vedere, con l'Inter si è più forte, con l'Inter poi ci sta perdendo, l'importante è che puoi fare più i posti, però con l'Inter, ragazzi, mi raccomando, con l'Inter, almeno giocatela con l'Inter, perché lì, ieri, con sto cattro, non l'abbiamo proprio giocato, non siamo scesi in campo, ragazzi, però è anche vero, mi ha fatto pensare, e gatte uno mese, cambiasse uno mese subito, poi con Zesofi ci uscirà, quindi alla fine, cioè, se uno più lo fa due, ha pensato più alla partita con l'Inter, capito? Però è sbarato lo stesso, cioè, questa è la scusante, e poi che mancano appostamente i top a noi, capito? Bremen, Cupo Mekes, Locatelli fa schifo, è vero, però sto Locatelli però con molta, insomma, la partita della partita sola sta facendo il campo, capito? Comunque, siamo questi, vuoi criticare a moto, vedi? Come sempre critica allenatore, allenatore, no, andare a step andare, quindi, la prima critica, chi ci può stare, costruttiva, è di giuntoli, perché la prima critica, ma non giuntoli alto, critica, critica costruttiva, nel senso, sono due le critiche che ci faccia aggiunti, uno, che cazzo c'è visto in Douglas Lewis, che per ora è una meteorite, proprio, un vantanino, c'è, non c'è, capito? Io ho visto più, ripeto, la fidanzata sua, la culo, la biondona, solo questo, Douglas Lewis, capito? Ho scopo sempre, ho infortunato questo, ho infortunato, oppure è dannoso. Che c'è qua, attualmente Artur, io dicevo addirittura su un Artur in più, no, mi sai, un Artur in meno, è in meno, infatti un G è in meno, capito? Veramente vergognoso, quindi, giunto a sbagliare su due classi, lui si prendono, sicuramente, e ragazzi, la verità è questa, e poi, e poi, che ora mi sono dimenticato, e poi, che vedo, mi sento il cervello per chi sta pensato che andrà a lavorare, e poi, che ha sbagliato, mi viene l'app, mi sono dimenticato, ma va, fa un culo, va, e poi, ah, e no, mi sono ricordato, meno male l'Alzheimer non ce l'ha ancora, e poi, di non aver preso un attaccante, il vice Flauic, capito? Flauic dice, è una pippa, ma i palloni non sono arrivati, è una pippa, e va bene lo stesso, ma alla fine, dove sono i cose, i dopo Flauic? Ma aspettate, a Milik, cioè non si vedeva che dopo 60 partite, perché poi, ragazzi, tante partite, c'è stato con lo Stoccardo, ma tante partite, 0-0, 0-0, 0-0, i gol mancano, ripeto, alla fine, non so se ci vuole tempo, no? Ma sicuramente, intanto non abbiamo i fuoriclassi di un tempo, e questo è assodato, però, siccome hanno speso 200 milioni, e loro sono in tente di calcio, attualmente i due migliori acquisti, solo due, sono Conce Sao, che poi ne acquisto in prestito, e Calulo, che lo deve riscattare. Cupo Megas, ora che si è infottorato, me ne ha fatto un cazzo, Niko Gonzalez altrettanto, quindi, ragazzi, eeeh, quindi, e tu dici, motta, 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 ma si giocatura, fanno schifo? Io ho detto, o quello che ho capito, sicuramente, nel reparto, soprattutto offensivo, da Cennocam in attacco, ragazzi, abbiamo scarsa qualità, questo bisogna dire, e quindi, è giusto che io credi che prima giunti, e molto, perché tutti e due, secondo me, se a tavolino ci senti, prendi Maturam, prendi Sacro Luiz, prendi a Cupo Megas, 60 milioni di, va 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 va, capito? E alla fine, con due euro, hanno preso praticamente, che ancora devono pagare, Conce Sao, ripeto, questi due sono però gli acquisti, all'ottava giornata campionato della tezza di Champion, i due a qui sono Kalulu e Conce Sao, basta, basta, vabbè, ragazzi, lo so, c'è disperazione, perché dice, mica, ma stai avendo, che cazzo è successo, lo so, e non riescono ad acquistare, allora, la spiegazione di soffa, non riescono ancora ad acquistare fenomeni, non riescono ad acquistare gente di qualità, o meglio che ci dovranno dopo, non lo so, certo, stai avendo, che con l'IPC ci fa vedere un caccio sciampato dall'IPC a passare a Stoccarda, ce ne vuole, figlio mio, cioè tu vinci a Sicuna in campionato là, e poi vedi a decima tedesca a Stoccarda, e soprattutto allo stadio, sei inguaiato, figlio mio, però siccome, guarda, voglio, no che l'occhio lo metto sempre, nel senso, voglio un po' dimenticare questa partita, voglio andare in dimenticatoio, fino a un certo punto, perché c'è la partita nelle vicinanze con l'Inter, perché io sono convinto, se c'è una partita, per esempio, a Verona, a Emel, a un po', in una partita stupida, per esempio, no, sono convinto che i vari gatti, i cambiasi, li metteva a titolare, perché poi, vedi, l'ha tolto perché si pensa all'Inter, capito? Ma, voglio pensare questo molto, però, diciamo che, e non male che i risultati, se non li porta a casa, poi la gente ti critica, la gente poi dice, subito, morta, arriva, morta out, morta in, morta, oggi morta out, domani morta in, capito? Poi manca alle, alle, mi manca a mio allenato, proprio questo era assodato tutti gli allegriani, ma tu con la Lega hai fatto, no schifo, più straschifo di morta, perché morta a meno, a meno qualcosa in più si è visto, qualcosa a meno nel possesso pala nel gioco, in tante partite. Ora, gli ultimi, diciamo, è anche vero che dopo l'IP sia, dopo l'IP sia la squadra è in in discesa, questo è vero, cioè, è finita la Juventus, e come, forse perché, da quando si è votato un bremo, ragazzi, la verità è questa, si è votato un bremo e la squadra, non so, o si pica colla, si pica dispiacere, la squadra, ragazzi, è questo che io ti dico, dopo l'IP sia, squadra in caduta libera, come mai? Come mai? La Champions League non la vince mai? O questa nemica è la, buonomella di Mastrangelo, che ti fa, non vengi, capito? Comunque concludo un pochettino per questi ades che offendo, che si fotta, hai vinto, non l'ha azzeccato con le staccate, no, però come l'ha azzeccato, non è che tu vieni qua quando non ha azzecco le cose, no, quando ha azzecco le cose però non vieni qua, oh, su se mi stessi, capito? Vengono, capito? Perchè mi hanno una spazia, capito? Tu si ha, non capisci, entri pallone qua, tu si chiedisci il codice fiscale, lo cazzo con il topo plan, capisci no cazzo, di bala fenomeno, finito, non capisci no cazzo, io uno mi so sbagliare due, ma su dieci ti ha azzecco, questi ades, capito? Comunque può essere una cosa, io voglio vedere, se tu mi sputtano a me, cioè io vabbè, tre, quattro anni, noi ventini stiamo male, perché la verità, dobbiamo dire, ma io sta pensando pure, minchia, chissà io quando sfottevo l'interista, in questi dieci anni, prima di, quando mi sono iniziato i nuovi scoletti conservativi, voi dove eravate? Minchia, voi stavate malissimo, capito? Perché io, però male, sì, sto malissimo questi tre, quattro anni, da quando l'ultimo, l'ultimo sarà ha vinto scoletto con Ronaldo, dei lì che te l'hai di bala, vabbè, perché loro hanno fatto vinto scoletto, però dai da questi quattro anni che siamo sempre in decadenza, quindi noi siamo un po' tristi in questi quattro anni, è vero, ma avviare però, dieci anni, minchia, dieci anni, poi dieci anni, dieci anni fallimento, cioè ragazzi, anzi, nove anni fallimento, nove anni che poi vincevo con dopo, cioè, capito? In questi dieci anni, o nove, dieci anni, quello che sia, eravate, stavate male, cioè, io ho capito, quando vi sfottevo io, stavate male, per questo alcuni dicono, capito? Vabbè, comunque è giusto così, ho sfottato, ma sfottato, che sfottato, che se c'è niente, non mi potremmo c***o a noi, guardi, comunque, niente, cosa vuoi interista? Il pronostico Young Boys Inter, Young Boys, ma speriamo che perde, guarda, 2 a 1 Young Boys, guarda, 2 a 1 Young Boys, magari perde 2 a 1 con Young Boys, guarda, lo so che è contrario, lo so che vince, ma dico sempre 2 a 1 Young Boys, lo so che vince 2 a 1, lei va a vincere niente 2 a 1, vincere niente 2 a 1, comunque, vi saluto ragazza, il cabelluno fisso del Young Boys a 9.35, tu mi hai sfottato un interista a me, speriamo che lo Young Boys ti batte 2 a 1, guarda, guarda, cornuto io, questo sono io cornuto, comunque, ti saluto, dai, no, vince l'Inter, 1 a 2, lo so io, 1 a 2 vince, comunque, mi hai sfottato, ma fate schifare, mutt'out, mutt'out!